Buonasera e bentrovati agli spettatori di Policoro TV. Siamo in compagnia di Franco Labriola, presidente dell'Associazione Culturale Idealmente, che ha ideato e creato il premio Dino Adamesteano giunto alla terza edizione. Presidente, pur mantenendo il carattere identitario, questo premio quest'anno si presenta ricco di novità. Beh certo, stiamo cercando di far crescere questo premio dal punto di vista culturale e dal punto di vista dei contenuti. Dal punto di vista dei contenuti avremo un'importante mostra che è in mostra permanente in Sicilia, l'avremo qui da noi perché siamo stati autorizzati alla sua riproduzione, una mostra fotodocumentale su Dino Adamesteano, 24 pannelli importanti e oltre a questo avremo dei momenti di ricordi importanti collegati a Dino Adamesteano. Parliamo di Khaled Assad, che è il custode di Palmira trucidato dall'Isis, perché difendeva quel sito archeologico importantissimo dal punto di vista mondiale. e parliamo di Sebastiano Tusa, l'ex sovrintendente dei beni culturali marini della Sicilia. Sebastiano Tusa è morto tragicamente in un incidente aereo mentre entrava ad un convegno internazionale in Etiopia, collegato alla figura di Dino Adamesteano perché il padre di Sebastiano Tusa era un amico personale di Dino Adamesteano. Dino apre scenari, come dicevo già nelle precedenti edizioni, importantissimi. A questo si accompagnano personalità importanti che porteranno un contributo importante. Voglio solo nominare Antonio De Siena, perché Antonio De Siena è stato un suo collaboratore stretto, che porterà un contributo importantissimo. Una location incantevole farà da sfondo a questa prestigiosa manifestazione, parliamo del castello baronale di Policoro, quest'anno si cambia? Eh sì, non è una scelta a caso, è una scelta importante, è una scelta che entra nel cuore della Magna Grecia. Il castello di Policoro è il cuore della Magna Grecia, rappresenta un momento importante dal punto di vista culturale per la nostra comunità e riteniamo che questa scelta sia anche un primo momento di valorizzazione dal punto di vista culturale di un contenitore che a nostro avviso deve essere valorizzato ed utilizzato di più. Un parterre di ospiti di eccezione anche quest'anno e vogliamo invitare tutti a partecipare alla manifestazione? Quando si svolgerà? Sì, la manifestazione si terrà domenica 18 settembre a partire dalle ore 19 all'interno della corte interna del castello baronale Berlingieri. durante la serata avremo un momento particolare in ricordo e in memoria di Nicola Buccolo, premeremo la famiglia Buccolo in ricordo di Nicola, con la quale famiglia noi abbiamo stretto una collaborazione importante che annunceremo domenica 18 settembre. Qualche altro nome ce lo può fare? Beh, avremo anche la premiazione di un giovane giornalista che si è affermato, Policorese, DOC, della nostra città, Mario De Pizzo, che è assolutamente un giovane professionista che merita di essere premiato con il premio di Nodemesteano. L'appuntamento per tutti è per il 18 settembre alle ore? 19. Grazie Presidente. Grazie a voi. Buona serata.